Il presidente francese Emmanuel Macron vi lancia l'idea di una nuova Unione Europea, difesa comune, diritto d'asilo e procura antiterrorismo alla base del suo manifesto sullo sfondo, il vertice di oggi a Lione, con il premier italiano Gentiloni destinato a portare ad un accordo per i cantieri STX. Alternativa Popolare affossa lo Ius Soli, una cosa giusta, fatta al momento sbagliato, può diventare una cosa sbagliata, è un regalo alla Lega, dice il ministro degli esteri e leader di Alleanza Popolare Angelino Alfano. AP sbaglia la risposta del Partito Democratico, intenzionato a votare il provvedimento con chi lo appoggia, inseguendo i numeri necessari al Senato. Maxi Blitz in Lombardia contro le infiltrazioni dell'Andrangheta, 24 arresti tra cui il sindaco di Seregno, Edoardo Mazza di Forza Italia ai domiciliari, è indagato con l'accusa di corruzione anche l'ex vicepresidente della regione Mantovani, sempre di Forza Italia. E' ora consigliere che si professa innocente. Milano come San Luca, il luogo simbolo dell'Andrangheta, si legge nelle carte. Per i magistrati un sistema di omertà e connivenza. Primo successo del Napoli in Champions League sconfitto, il Feyenoord in casa per 3 a 1. Questa sera in campo anche le altre due italiane e la Roma saranno in scena in Azerbaijan contro il Karabakh, mentre la Juventus ospiterà l'Olimpia Cosse. Entrambe sono a caccia della prima vittoria stagionale in Europa. 7.32, buongiorno, benvenuti alle telegiornali del mattino della 7. Allora, dovrebbe finire con un 51% sotto il controllo di fincantieri, dunque italiano, e il restante sotto il controllo francese. La vicenda STX, i cantieri navali così importanti per i quali si era rischiato quasi una frizione a livello internazionale fra Italia e Francia, oggi si ricompone a Lione. In mattinata si vedono il presidente del Consiglio Gentiloni, il presidente francese Macron, discuteranno di questo, ma non solo, parleranno sicuramente anche dei piani europei annunciati, illustrati ieri dallo stesso presidente francese, che prevedono sì un'Europa a due velocità, ma nel quale il nostro paese ci sarebbe sicuramente. Dopo due mesi di tensioni e trattative ad oltranza, il braccio di ferro tra Roma e Parigi sulla vicenda fincantieri STX di Saint-Nasar potrebbe chiudersi nelle prossime ore a Lione con la firma dell'accordo. È qui, nella città bimillenaria francese, il cui centro storico è patrimonio universale dell'umanità, che Paolo Gentiloni ed Emmanuel Macron si vedranno per un vertice intergovernativo. Al momento il cuore dell'intesa è la produzione di navi da crociera, ma la trattativa tra Naval Group e fincantieri per la creazione di un gruppo navale militare continua. Nel vertice di oggi però i due leader parleranno soprattutto di come rilanciare l'Unione Europea, anche alla luce dei risultati delle elezioni tedesche. Il sogno di Emmanuel Macron sono gli Stati Uniti d'Europa. Il presidente francese lo ha detto ieri agli studenti della Sorbonne, l'Europa che conosciamo è troppo debole, troppo lenta ed inefficace. Ma nel mondo d'oggi, di fronte alle sfide contemporanee, solo l'Europa può darci capacità d'azione? E poi via, a parlare di questioni chiave, tutte seguite dall'aggettivo europeo. Terrorismo e sicurezza, ambiente ed energia, migrazioni, cambiamenti sociali, politiche fiscali e digitali. Macron immagina una difesa, una procura antiterrorismo ed un sistema di cybersicurezza comuni. Propone una protezione civile e comunitaria per fronteggiare i disastri causati da fenomeni meteorologici sempre più estremi. Vuole affrontare i cambiamenti climatici, imponendo tasse ai paesi che inquinano di più al confine con l'Unione, condividendo l'energia prodotta grazie al nucleare e alle fonti rinnovabili. Quanto all'immigrazione, Messier le Présidon parla di ingressi per i soli rifugiati e di rimpatri di chi non ha diritto d'asilo. Entrambi con procedure rapide e snelle. Chi ha diritto di restare viene integrato, chi non ce l'ha viene riaccompagnato nel paese d'origine. Per tutti servono documenti con dati biometrici e procedure uguali in ogni parte dell'Unione. Per Macron, sulla questione migrazioni, serve la collaborazione economica con i paesi africani, la creazione di tasse specifiche e fondi per lo sviluppo. Argomentazioni, le sue, che nei paesi dell'Est non riscuotono molti consensi. Poi, come sapete, ci sono gli stranieri che sono però nati nel paese che ormai li ospita i figli degli immigrati. Per esempio, è su di loro che si discute, è per loro che si discute della legge, del cosiddetto Ius Soli della cittadinanza, che poi è più uno Ius Cultura. Ieri, nuovo affondo di alleanza popolare, il partito di Alfano, che ha detto è una legge giusta, ma non è il momento giusto. Oggi arrivano già le prime reazioni, soprattutto da parte del Partito Democratico. Il ministro del Rio, ad esempio, ha detto che non bisogna cedere alla paura e quindi si cercherà comunque di approvarla con chi ci sta. I numeri però ballano. Sarebbe un regalo alla Lega. Per questo motivo, spiega Maurizio Lupi, neocoordinatore di Alleanza Popolare, i centristi di Alfano non voteranno in Senato. Lo Ius Soli. Un no senza margini di trattativa. Non va bene nemmeno la versione dello Ius Soli, temperata, cheppure i deputati di Appia hanno votato alla Camera. Ma ora il momento è sbagliato. Troppo a ridosso del voto. Pagheremmo un costo in voti troppo alto. A favore della Lega, ripetono in coro, Alfano e Lupi. Se in Consiglio dei Ministri si parlerà di mettere la fiducia ai nostri ministri, si diranno contrari. Ma il presidente Gentiloni, che ha dimostrato più volte responsabilità, sa che da qui a dicembre le priorità sono altre. Chiude la porta ancora Lupi. Credo che occorra fare ogni sforzo per approvare lo Ius Soli replica il ministro dell'interno Minniti. Va trovata in Parlamento una maggioranza possibile, che può anche prescindere tecnicamente da una di governo, perché è un tema su cui ci può essere libertà di espressione la sfida. In realtà anche il PD non sembra disposto a dissare la bandiera in modo convinto. Renzi l'ha riposta, lasciando fuori dall'agenda il tema. Ripreso invece dal portavoce Richetti, che conferma l'impegno. È questo il momento propizio. Lo Ius Soli serve all'integrazione. Si spende Richetti, che poi aggiunge però, cercheremo fino all'ultimo una maggioranza in aula. Maggioranza che allo stato attuale non c'è. Nonostante da sinistra il disimpegno venga considerato un passo che potrebbe avere conseguenze molto pesanti. Inseguire la Lega sullo Ius Soli significa solo tirarle la volata. I diritti di 800.000 persone contano molto di più delle parole di Alfano, l'affondo di Roberto Speranza. Il PD ha fatto tante forzature. In questa legislatura ne faccia una per una buona causa, la sfida ancora del capogruppo di MDP La Forgia. Alla sinistra della maggioranza, insomma, pronta a far valere le sue ragioni. Il governo, infatti, è andato sotto in commissione difesa dove si votava la riforma delle forze armate. Un chiaro messaggio alla vigilia di passaggi decisivi in Parlamento. Ad inizio ottobre arriva il documento di programmazione economica. Da sinistra fanno sapere che non si limiteranno ad ascoltare. L'appoggio alla prossima finanziaria in aula da metà ottobre non sarà affatto scontato. Fanno capire Bersani e Speranza. Intanto, per rimanere in tema, il ministro dell'interno Marco Minniti ha presentato il primo piano nazionale di integrazione per i rifugiati, ovvero per chi beneficia della protezione internazionale. Stiamo parlando per il nostro paese di circa 75 mila persone che hanno quindi degli obblighi nei confronti del paese ospitante che a sua volta ne ha nei confronti di queste persone. E allora lo Stato dovrà appunto assicurare ai rifugiati uguaglianza e pari dignità, libertà di religione, accesso, istruzione e formazione, ma anche alloggio e sistema sanitario. Il piano, appunto, però, come ha sottolineato il ministro Minniti, che è un tassello fondamentale della intera strategia che punta a regolare il fenomeno migratorio e la questione dei migranti. Come sapete è stata anche determinante per decidere le sorti elettorali in Germania, in particolare di un partito, la FD Alternative für Deutschland. Ci sono dei problemi all'interno di quel partito, l'abbiamo visto nei giorni scorsi. Adesso che si presenta, però, sulla scena politica e che entra in Parlamento, dice il momento di abbassare i toni perché non è più campagna elettorale. Alternative für Deutschland ieri è entrata per la prima volta al Bundestag di Berlino per formare il suo gruppo parlamentare, ma all'estrema destra, che domenica ha ottenuto il 12,6% dei voti e ben 94 seggi, è arrivata divisa all'appuntamento con la storia. Ha lasciato il partito, infatti, Frauke Petri, una delle leader, una scelta che potrebbe innescare una vera e propria scissione tra l'ala moderata e quella fondamentalista e xenofoba. Non stiamo rispondendo al mandato dei nostri elettori che ci chiedono di guardare al futuro in modo costruttivo, non al passato, ha spiegato Frauke Petri, convinta che Alternative für Deutschland avrebbe preso il 20% se non avesse spaventato molti elettori con il linguaggio estremo ed esasperato della campagna elettorale. Gettano acqua sul fuoco con i due neo capigruppo, Alice Weidel e soprattutto Alexander Gauland. La campagna elettorale è finita, dice noi abbiamo una grande responsabilità nei confronti dei nostri elettori, non siamo xenofobi. È ovvio che il linguaggio di una campagna elettorale è diverso da quello che si usa in Parlamento. Ma intanto arriva il monito del presidente tedesco. Le controversie, anche le più aspre, appartengono alla democrazia, ma per questo devono valere le regole come il rifiuto di ogni forma di antisemitismo e odio dello straniero, ha detto Frank-Walter Steinmeier. I liberali di Christian Lindner annunciano che nel Bundestag si rifiuteranno di sedere a fianco dell'estrema destra, mentre i verdi assicurano che non lasceranno spazio a nessuna forma di razzismo. Proprio liberali e verdi che Angela Merkel faticherà a mettere assieme. Il passaggio è stretto, ma la coalizione cosiddetta Giamaica è necessaria per governare, visto che i socialdemocratici hanno confermato di stare all'opposizione. La cancelliera deve anche far digerire al suo partito la valanga di voti persi. Il malcontento è emerso chiaramente anche ieri, quando Volker Cauder è stato rieletto capogruppo della ZDU, ma ha dovuto incassare ben 53 voti contrari. Una notizia, una svolta, una svolta sicuramente clamorosa per l'Arabia Saudita. Era rimasto l'unico paese al mondo a vietare alle donne di guidare e invece finalmente Re Salman ha firmato. Le donne potranno avere le prime patenti a partire da giugno, perché ovviamente ancora vanno sistemati alcuni aspetti organizzativi e legali di tutta questa vicenda. e la decisione che è stata presa da Re Salman però è stata ispirata dal giovane principe Mohammed bin Salman che è l'uomo che ha come obiettivo la modernizzazione del paese entro il 2030, questo è il suo obiettivo, e la progressiva uscita del paese fra l'altro dalla dipendenza da petrolio che è insomma un po' curioso parlando fra l'altro proprio della patente delle donne e invece erano tantissime a proposito le donne ma anche gli uomini kurdi che sono andati a votare domenica lunedì scusate lunedì scorso per l'indipendenza del Kurdistan iracheno un referendum autoproclamato che non ha nessun valore effettivo però più del 91% anzi il 91,8% ha votato per il sì il problema è quello che succederà adesso quale scenario si disegnerà perché la Turchia ha detto che non esclude nessuna opzione militare e altrettanto ha fatto anche l'Iran a proposito di referendum autoproclamati ma che però creano problemi sapete si voterà molto probabilmente anche in Catalogna domenica Madrid ha ordinato di sigillare pensate tutti i seggi elettorali il premier Rajoy doveva andare a Tallinn venerdì per un vertice europeo e ha rinunciato adesso invece noi ci occupiamo delle vicende di casa nostra vicende di cronaca di casa nostra a partire da quella serie di arresti di cui vi davamo conto ieri mattina praticamente in diretta in Lombardia amministratori della pubblica amministrazione appunto si indaci eccetera eccetera coinvolti con l'Andrangheta in Lombardia un sindaco arrestato per corruzione insieme a un imprenditore in odore di Andrangheta che gli avrebbe procurato voti in cambio di favori ma c'è dell'altro nelle inchieste della procura di Monza e Milano 27 in tutto le persone coinvolte e accusate a vario titolo anche di traffico di stupefacenti minacce e lesioni dalla Calabria alla Lombardia fino a Seregno una cittadina dell'Abrianza dove il sindaco forzista Edoardo Mazza è finito ai domiciliari per corruzione ogni promessa è un debito dice intercettato mentre parla con un noto imprenditore calabrese Antonio Lugarà interessato alla costruzione di un centro commerciale su un'ex area industriale di sua proprietà in cambio di voti come quelli che per l'accusa avrebbero portato all'elezione del consigliere comunale Stefano Gatti anche lui finito ai domiciliari un prestanome fatto eleggere dall'Andrangheta scrivono i magistrati e anche lui iscritto in quel rapporto tra criminalità organizzata e politica che il procuratore antimafia a Milano Lidabo Cassini chiama sistema corruzione innagato per corruzione anche l'ex vice presidente della regione il forzista Mario Mantovani già sotto processo per un'altra inchiesta che ieri ha dichiarato di essere totalmente estraneo ai fatti c'è un dipendente dell'ufficio affari semplici della procura di Monza arrestato per rivelazione di segreti d'ufficio e poi c'è il filone dell'inchiesta che riguarda droga ed estorsioni e che ha al centro il presunto sodalizio dell'Andrangheta di Limbiate in Brianza composto prevalentemente da persone di San Luca Roccaforte dell'Endrine Calabresi vogliamo mettere in piedi San Luca a Milano al nord dicono intercettati alcuni indagati che per i magistrati sarebbero legati a un traffico di coca avviato in provincia di Como e accusati anche di estorsioni con diversi episodi di minacce e violenza avvenuti nella zona di Cantù La rilasciata al messaggero dice di accogliere con molto interesse quella che era la proposta formulata ieri dal commissario all'anticorruzione Raffaele Cantone di inserire una figura di garanzia all'interno degli Atenei per diciamo così controllare l'andazzo sicuramente molto diffuso e orribile delle università di controllare i concorsi e dunque le cattedre Negli Atenei c'è un deficit etico è necessario cambiare le commissioni universitarie lo dice il presidente dell'autorità anticorruzione Raffaele Cantone all'indomani dell'inchiesta della procura di Firenze che ha portato a sette arresti tra docenti di diritto tributario a 59 indagati e ha svelato un sistema di spartizioni di cattedre e accordi corruttivi ritenuti sistematici l'autority è al lavoro per varare di intesa con il ministero dell'istruzione un codice di comportamento che possa invertire la tendenza e favorire il merito nelle selezioni di studenti ricercatori e candidati che affrontano concorsi ed esami di abilitazione professionale secondo Cantone occorre vigilare sui conflitti di interesse che spesso derivano dalle consulenze esterne e aprire le commissioni anche a personalità esterne rispetto al mondo accademico la carenza di finanziamenti è ritenuta tra le cause che possono creare una competitività estrema con cordate favoritismi e fenomeni corruttivi un malcostume diffuso anche all'origine della fuga dei ricercatori italiani all'estero non bisogna confondere una malattia con una epidemia afferma il rettore dell'università di Firenze Luigi Dei alla guida dell'Ateneo in cui si è verificata la denuncia all'origine dell'inchiesta nelle intercettazioni ci sono persone che parlano di università come una sorta di mercato ma le malattie si combattono con atteggiamenti prevenzione e con un costante lavoro quotidiano la maggioranza dell'università afferma è un corpo sano le indagini nel frattempo continuano negli Atenei toccati dai provvedimenti dei magistrati fiorentini si lavora per garantire lo svolgimento delle attività didattiche dopo i provvedimenti di interdizione temporanea di un anno all'insegnamento per i docenti coinvolti richiesti dai pubblici ministeri e già disposti dal giudice per le indagini preliminari allora occupiamoci adesso di calcio o meglio di Champions al Napoli è andata bene adesso tocca le altre nessuna sorpresa da San Paolo un Napoli meno spettacolare del solito si sbarazza del Feyenoord cogliendo il primo successo nel girone troppa la differenza emersa in campo tra le due formazioni in una sfida caratterizzata dall'ennesimo acuto dei tre tenori partenopei primo a entrare nel tabellino dell'incontro dopo appena sette minuti Lorenzo Insigne con un destro a giro micidiale e la dedica dopo un errato lancio di maglia allo sfortunato collega Arkadius Milik il raddoppio a inizio ripresa con una conclusione sin troppo facile di Dries Mertens abituato a prodezze molto più complicato un piccolo brimido quando l'arbitro ha assegnato un rigore dubbio al Feyenoord ma con Torstra che dal dischetto ha esaltato le doti di Pepe Reini non ha sbagliato invece José Hayekon il palone del 3 a 0 cui ha fatto seguito in pieno recupero il gol della bandiera del Feyenoord realizzato da Amrabat tre punti pesanti che rilanciano le ambizioni del Napoli in un girone non più impossibile stasera invece sarà la volta di Juventus e Roma i bianconeri al debutto casalingo in Champions cercheranno contro l'Olimpia Cosco il primo successo che cancelli la sonora sconfitta di Barcellona Allegri chiede ai suoi di non sottovalutare l'avversaria greca che punta tutto sulla velocità ma lamenta al contempo problemi in difesa l'infortunio di Ovedes e il mancato inserimento di Lichsteiner nella lista UEFA lo costringerà a schierare Barzagli nel ruolo di terzino destro e l'acciaccato Benatia quale centrale al fianco di Chiellini l'asse di centrocampo ruoterà attorno al duo Pjanic Matuidi mentre in attacco intoccabile la coppia di Bala Mandzukic si profila la seconda panchina consecutiva per Gonzalo Higuain prima a scendere in campo sarà però alle 18 la Roma che nella remota Baco affronterà gli azzeri del Carabag per il tecnico di Francesco il ruolo di Cenerentola del Girone non si addice all'avversaria di turno anche se lo squilibrio tecnico tra le due squadre appare evidente in un turnover che prevede il ritorno in campo di Gonalon Pellegrini e Defrel gli intoccabili del tecnico saranno Edin Dzeko e Alexander Kolarov la cui grande esperienza nelle competizioni europee si unirà ad un eccezionale stato di forma 7.50 in questo momento io do subito la linea alla pubblicità e poi a Paolo Sottocrona per le previsioni del tempo ci vediamo come sempre se volete domani a partire dalle 7 con la rassegna stampa 7.30 buona giornata